aveva lui all'inizio, negli anni 50, 26 atti unici, a cui i morti non fanno paura, e quindi di fare proprio delle cose ma non ambientate dal veto, cioè che ne so, il tuo piano di saluto, lavaggio di amretto, questi atti unici, e affidarli a alcune persone, e farne di piccoli film, questa è un'idea, bella, bisogna dire se Luca, perché su questo omaggio da uno, se lo diciamo cinematografico non avrà problemi, perché in questo momento non colleghi a volte, in questo momento lo faccio, però in Italia che si è tu, infatti parlavo in prima parte di…